Bale, esordio nel golf, errore alla prima buca. Appena 23 giorni dopo il suo addio ufficiale al calcio, Gareth Bale ha iniziato la sua nuova avventura nel golf. Partecipando al primo torneo, Malek Stella delle Real Madrid e della Nazionale Gallese è stato protagonista di una partenza poco invidiabile, finendo nel bunker alla prima buca. Non puoi essere così bravo Bale non si è però lasciato scoraggiare, riuscendo ugualmente a rimanere nel par. Nelle restanti buche si è fatto apprezzare con una serie di buoni colpi il campione degli usopi Matt Fitzpatrick e il numero 3 del mondo John Ram. Lo hanno elogiato. Ho detto a Gareth, non puoi essere così bravo nel calcio professionistico e nel golf allo stesso tempo. Semplicemente non sembra giusto, ha detto Ram, scherzando. Virgola.